Un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a portare avanti tutte le misure necessarie presso regione, saga, governo e Parlamento al fine di scongiurare l'addio di Ryanair all'aeroporto d'Abruzzo e quanto votato al termine del Consiglio Comunale straordinario di Pescara incentrato sull'allarme scaturito a seguito dell'annuncio della compagnia di volo low cost irlandese di voler lasciare lo scalo di Pescara a causa dell'aumento delle tasse aeroportuali deciso dal governo nazionale. Da quando Ryanair opera sull'aeroporto internazionale d'Abruzzo, era il 2001 a Pescara si è passati da 150.000 a 600.000 passeggeri all'anno dati che testimoniano la crescita dello scalo aeroportuale e regionale ma anche quanto si sia puntato sui collegamenti assicurati dal vettore irlandese che oggi mette sul piatto della bilancia il suo peso contrattuale. Infatti se Ryanair dovesse andare via a fine ottobre 2016 a rischio ci sarebbe la sopravvivenza dell'intero aeroporto abruzzese per questo si sta lavorando, dice Camillo D'Alessandro delegato ai trasporti della regione Abruzzo per trovare una mediazione e possibili soluzioni. C'è una spiraglio davanti a noi secondo me è solo un problema di tempi da un lato abbiamo ancora possibilità di contribuire pubblicamente ma non per l'intero ammontare dell'esigenza finanziaria circa per 2 milioni e mezzo non è considerato aiuto di Stato. C'è poi un'altra parte che devono mettere i privati Già lunedì ci sarà una riunione con tutti gli operatori privati in particolare quelli turistici che hanno il primo e primario interesse alla presenza della saga che sono organizzati attraverso le DMC ne raccolgono già 4 mila con loro stiamo ragionando su come fare affinché loro contribuiscano per la parte restante. Il centrodestra ha puntato il dito contro il governo Renzi Reodi aver alzato le tasse condannando a morte i piccoli aeroporti Il contesto delle regole degli aiuti alle compagnie low cost però è cambiato nel corso dei 15 anni occorre ripensare il rapporto con Ryanair La Ryanair ha detto tu pagare io volare quindi bisogna organizzare i bandi di gare per stabilire delle rotte si può trattare con Ryanair per mantenere la compagnia aerea qui sul posto sulla base di Pescara Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!